Mi ha colpito invece una frase che ha detto sull'ambiente che non aiuta la Roma. Ok, cominciamo bene. Mannaggia, chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi per chi vieni. Sempre per se. Che vuol dire, ambiente? Cosa vuol dire? Vuoi ritornare a rifare la stessa manfrina? Qui non si può lavorare? Qui si lavora benissimo. Scusi, sto facendo solo una domanda che non ho completato, se mi permette. Siccome la domanda che era stata fatta credo si riferisse a Emerson, se non ho sentito male in televisione, e volevo chiedere anche di Juan Jesus, visto che forse Juan Jesus è uno dei giocatori che sono più in difficoltà in questo momento, tanto è vero che lo ha sostituito nell'intervallo. Qual è il problema di questi giocatori? È che le galline di Cioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco al giorno e bisogna dargli da mangiare. I Cioni è quello che abita vicino a casa mia, a città, dove bisogna governare tutti i giorni le galline di Cioni. Non è soddisfacente la risposta? No, però se non si può fare una domanda... Si può fare una domanda? Intanto comincia a chiedermi scusa perché tu ha scritto che ho allevato Florenzi, che non era infortunato, e Florenzi era infortunato, ha fatto una manfrina sui giornali... Possiamo dire? Sono offesi. Cioè se dice che... Ecco le offese. No, non è un'offesa però... No, no, è un'offesa. Ha detto. No, no, senza... Piove, 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 poi piove e finisce che poi piove la vera. No, tu se lo dici, lo dici, lo ridici, lo ridici, poi va a finire che ci indovini a che volta, se da due anni e scrivi sempre la stessa cosa, ma non sarà mica qualità quella lì. E sparare nel mucchio, poi piano piano avviene. Quello che ha qualità dice, oh, domani l'altro alle due piove, e piove. Ma quello che dice, oh, e piove oggi, sole. Piove domani, sole. Piove, in fondo all'anno piove, no, sole. Piove poi il prossimo anno. E va a finire, in due anni piove. E qual è? Qual è? Rassegnato sei tu. Se tu vuoi... No, no, fermo, rassegnato sei tu. Se tu vuoi, a me m'avanza roba per mettertela a disposizione. C'hai qualche problema? Allora, se hai qualche problema, veni a parlare. Io ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere. Perché a me, per me, me ne avanza. Non ti vedo tranquillissimo. Questo musino un po' bianchino, un po' smunto. Secondo me tu c'hai qualche cosa che ti dannoia. Vieni a parlare, se ne parla. E te la metto a disposizione. È la risposta che tu cerchi.